Oh, stasera in questo club ci sarà una gara di breakdance! Oh, mi piacerebbe tanto vincerla! Oh, sì! Oh, no! Tu puoi anche essere un pilota migliore di me, ma io sono il miglior ballerino di breakdance! Oh, guarda qui! Oh, 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 sì, sì! Non esiste! Io so fare i passi migliori! Guarda, li ho portati con me! Ne ho una valigia piena! Guarda, guarda, già! Oh! Sei capace di fare il robot? Oh, oh, oh! Ah, 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 ah! Meeh! Sta' attento! Mi dispiace! È stato un terribile incidente! Stavo tentando di fare il robot, ma purtroppo quello è un passo di danza che va oltre le mie abilità. Beh, io posso darti una mano! Davvero? Certo! Ma sarà una soluzione un po'... estrema! congratulazioni l'intervento è stato un successo adesso posso fare il passo del robot ma certo perché adesso tu sei un robot ma com'è possibile ho rimosso il tuo cervello e l'ho messo all'interno di un corpo da robot non bastava darmi lezioni di danza sì ma così è molto meglio lo vedrai bel corpo ma ci vorrà molto più di questo per sconfiggermi ragazzo robot io non sono un ragazzo robot io sono robot man scivolo giro cosa onda 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 oh sì cosa cosa da capo da capo contro l'alt catch così autentico sì hai visto urrà ho vinto di nuovo sì